Un trend in crescita che non trova freno, insieme alle preoccupazioni dei consumatori continuano ad aumentare anche i tassi di interesse. Ad ottobre hanno raggiunto il 4,7%, segnala Banca Italia, uno 0,17 in più rispetto al mese precedente, che passo dopo passo ha tracciato la strada per una scalata record. Quasi 200.000 famiglie non sono riuscite a rimborsare tutte le rate dell'ultimo anno, dice un recente sondaggio, il mutuo con un tasso variabile assomiglia sempre più ad un insaziabile mostro. Considerando un finanziamento medio, da gennaio del 2022 le rate risultano cresciute fino al 65%. In pratica, se due anni fa la rata mensile di un mutuo a tasso variabile era di 571 euro, oggi, calcolando l'aumento degli interessi, la stessa rata è arrivata a 784 euro. Ben 213 euro in più al mese, oltre 2.500 l'anno, cifre insostenibili, denunciano le associazioni dei consumatori, che considerano anche l'aumento del costo della vita. Bisognerà aspettare ancora qualche mese, dicono invece gli analisti, per intravedere un'inversione di tendenza. I tassi potrebbero iniziare a scendere a marzo del 2024, toccando il 3,6%, ma tutto dipenderà dalla prossima mossa della Banca Centrale Europea.